Sui bollettini della Tari si parla del fatto che molti cittadini si trovino in fila perché ci sono degli errori, perché non sono stati calcolati in maniera esatta, perciò in qualche modo esiste confusione. Oggi una conferenza per parlare di variazioni, per parlare di informazioni precise. Abbiamo spedito 65.000 bollettini all'inizio di novembre e noi dal momento in cui i cittadini hanno ricevuto i bollettini, e quindi parliamo circa del 10-11 novembre, ad oggi abbiamo ricevuto 650 cittadini. 650 cittadini che sono venuti qui non per segnalare degli errori dell'amministrazione, ma per effettuare le più svariate segnalazioni. La maggior parte sono rettifiche conseguenti a situazioni modificate nell'anno. Non so, un figlio che è fuori risiede come residenza nel nucleo del genitore, però poi materialmente è altrove perché è studente. Non so, qualche decesso avvenuto nell'ambito familiare. Oppure molti vengono perché non conoscono le agevolazioni previste da regolamento, quindi vengono ad informarsi. Per cui non si può parlare di errori, si parla di un'ordinaria amministrazione che avviene quando partono 65.000 avvisi di pagamento e lì dentro certo ci può essere anche qualche errore. In effetti c'è anche qualche rifuso, chiamiamolo così, relativo alla vecchia Tares 2013, quando lì veramente c'erano stati degli orrori. Tra le variazioni presentate oggi, quali sono quelle che sono più importanti, quelle da tenere sott'occhio, quelle che forse i cittadini ignoravano e che quindi in qualche modo alleggeriscono anche questo pagamento? Per il cassa integrato, il disoccupato, chi è in mobilità, il regolamento prevede l'abbattimento del 50% della tariffa. Le agevolazioni ce ne sono di diverse tipologie e sul sito le agevolazioni sono pubblicate. All'interno del bollettino ci sono per macro argomenti, sono state riportate, per cui se non si riesce a capire il macro argomento ci si può rivolgere presso i nostri uffici oppure collegarsi con il nostro sito dove sono riportate nel dettaglio.